Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video outfit Finalmente dopo milioni di anni sono tornata Comunque, video outfit velocissimo perché sono in ritardo Allora, su Instagram avevo messo Oddio Questa tutina come foto E vi avevo detto che vi avrei fatto un outfit Quindi eccolo qua Allora, un outfit super semplice Come vedete, allora come accessori Ho solamente questo anellino Dorato, così, super semplice Che ormai è diventato bronzo E poi i piedi ho questa cavigliera È fatta con le perline Come vedete E appare in questo modo Così, solo su un piede E niente, la metto in questo modo La tutina è questa Sì, scusate lo sfondo La tutina è questa Allora, è fatta in questo modo È blu notte Non so se si possa vedere È accollata fino a qui Ha questa piccola apertura Poi, fino a qui, è fatta di pizzo Ha questo dettaglio qui, sempre dorato Un po', cioè, sì, specchiato E poi finisce a pantaloncino Così, molto carina Anche molto comoda Perché almeno non si deve pensare Se magari ci fosse stata la gonna Oh mio Dio, si alza qualcosa Quindi anche con un po' di vento Va bene Dietro è fatta Vediamo se riesco È fatta In questo modo Così Infatti non ho messo il reggisino apposta Perché Cioè, si sarebbe visto in ogni caso Dietro, infatti, come vedete C'è del pizzo proprio trasparente E lascia un po' la schiena Cioè, sì, lascia la schiena scoperta Dietro invece Ho messo questo infradito Tra virgolette giugliello Perché hanno tutte queste pietruzze qui Sono color avorio E niente Ho messo queste perché volevo stare comoda E di solito Metto le zeppe Per questo tipo di look Però ragazze A parte che stasera veramente non mi va E poi i capelli li ho fatti così Ho fatto una coda Così semplice mossa E poi ho lasciato il ciuffo Cioè, ho arricciato un pochino il ciuffo Come vedete E l'ho lasciato sciolto Perché con questo tipo di Questo tipo di scollo accollato Non è il caso di Cioè, non è il caso A me sinceramente non piace Lasciare i capelli sciolti Perché se ho un vestito O una tutina con la schiena scoperta Facciamola vedere, no? Poi tra l'altro sono anche abbronzata E quindi, quindi sì Il trucco l'ho fatto con La Naked Così Ho messo solamente Un paio di ombretti Chiari Un marroncino nella piega Quindi Niente di che E poi sotto ho voluto marcare Con un ombretto più Un ombretto più Un ombretto nero E quindi È venuto fuori Questo trucco carino Allora Io mi alzo e vi saluto Perché non ho il ritardo Vabbè, come borsetta Ho scelto una blu scuro Naturalmente Comunque Io spero che questo video Vi sia piaciuto Era velocissimo Comunque questa l'ho presa In un negozio Proprio locale Della mia città Si chiama iGirl Dove prendo la maggior parte Delle mie cose E carino Comunque Cioè Questa si trova un po' Dappertutto Comunque Io vi mando un bacione E ci vediamo Al prossimo video Ciao